buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo video benvenuti nel video dei pronostici dei quarti di finale del torneo di alle e del torneo del queens scusatemi per il ritardo con cui esce il video ma non l'ho potuto fare ieri sera e quindi rimedio stamani sperando di fare comunque cosa gradita quarti di finale del torneo del queens e di alle che cominciano per quanto riguarda il torneo tedesco alle ore 12 e per quanto riguarda il torneo londinese alle ore 13 quindi del tempo c'è per poter seguire il video e magari prenderne spunto l'invito è come al solito ad attivare la campanella a iscrivervi al canale e a lasciare tanti tanti bei like al video partiamo con alle partiamo con il torneo tedesco partita delle 12 fra otte e kachanov a me otte piace io ve l'avevo detto ieri confermo la mia la mia idea otte a due venti può battere può battere kachanov tutto da favorito kachanov sia la quota che il la percentuale dell'algoritmo ma io ho visto giocare otte l'ho visto giocare abbastanza bene e credo che possa vincere contro kachanov seconda partita medvedev contro bautista è favorito netto medvedev quota e situazione dell'algoritmo di tennis prediction sono convinto anch'io che sia favorito daniel ma la quota è bassa 134 non mi convince e quindi o si sta fermi qua o si aspetta che che vada in difficoltà medvedev per cercare di estrapolare un valore più alto della 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 quota nel senso che mettiamo a sotto di un break nel primo set la quota sale e magari c'è più valore nel poterla nel poterla prendere carreno busta contro krigos anche qua netto favorito l'australiano superficie adattissima per nick che se non impazzisce e non la butta via come a volte li capita anzi molto spesso li capita può essere sicuramente favorito la quota è ancora a 1 e 30 quindi una quota molto bassa anche qua il solito consiglio attendere che krigos eventualmente abbia il suo momento di follia sperando che poi si riprenda e prendere una quota un po più alta aliasim murzak favorito per i boom makers aliasim favorito anche per l'algoritmo di 10 expedition favorito anche per me quota 1 e 60 che è interessante può essere un'idea può essere un'idea il buone aliasim con tunurzak che sull'erba non sta entusiasmando quindi mi prendo aliasim per quanto riguarda londra vediamo cosa succede a londra londra abbiamo davidovic fochina contro van den zanjup qua secondo me io come possano dare favorito fochina è un mistero allora il londese non sarà un fenomeno ma fochina è veramente un terraiolo insomma su questa superficie secondo me van den zanjup a oltre due può essere veramente un affare poi magari perderà in due set però io mi sento di dirvi rischiate l'olandese perché davidovic fochina è veramente un terraiolo puro e non riesco a capire come possa essere favorito su questa superficie poi ripeto pronto ad essere smentito ma a me i terraioli su erba non convincono paolo contro berrettini favorito berretta molto favorito berretta sia dalle quote che dalla percentuale anche se è 51 e mezzo a 48 e mezzo è la percentuale non è molto alta però aspettare perché 1 e 38 una quota molto bassa e il berrettini di ieri contro contro tomy paul corre dei rischi quindi aspettate e aspettate di vedere come gioca berrettini aspettate di vedere se il servizio di berrettini è mortifero come deve essere e magari aspettate di vederlo magari in difficoltà nel primo set tanto matteo ha dimostrato di poter recuperare padistone contro krajinovic qua ci sta il favorito a cui c'è nel senso che per le quote è favorito krajinovic per l'algoritmo di tennis prediction e anche per me è favorito padistone che è uno di quelli inglesi che nel circuito non vedi mai ma che quando arrivano a giocare sull'erba sono abituati e quindi sull'erba ci sanno giocare meglio di quanto non possa fare di quanto non possa fare krajinovic quindi io mi prendo io mi prendo peniston mi prendo peniston anche per la quota 2 2 40 è veramente una bella quota finisce finisco con rumus vuori contro contro ciric è ovviamente favorito ciric ed è ovviamente favorito sia per me sia per l'algoritmo di tennis prediction sia per le quote dei boom makers è un po bassa la quota 1 e 42 non è non è un affare però insomma ciric ci sta detto fra noi le mie quattro partite ciric contro rumus vuori ci potrei mettere anche peniston ma sono più per van den zanchup contro davidovic fochina otte contro kachanov e aliasim contro contro urlac queste sono le mie quattro partite per oggi vediamo come va ripeto giocate con moderazione due euro per divertimento due euro per guardare quante ne azzecco due euro per potermi dire non ci capisci niente e non sarebbe la prima volta che che ne sbaglio tutte quindi non ci sarebbero problemi però mi raccomando leggeri 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 perché il tennis è veramente un gioco diabolico ed è veramente un gioco dove soprattutto sui multipli non conviene spenderci troppo deve essere un divertimento deve essere un modo per guardare le partite e provare quell'emozione in più che ti dà la schedina ma non certamente un modo per arricchirsi grazie a tutti buona giornata e iscrivetevi al canale